Se noi guardiamo l'Italia è vero che non siamo in un pericolo di ripetere lo stesso regime che ha messo in atto Hitler, ma se vediamo una visione mondiale possiamo dire che si sta già ripetendo con il popolo palestinese, è la cosa che fa più male che la sofferenza, la reca chi ha già sofferto. No, questo Santoro non è possibile affermarlo, Hitler decide che una componente del consesso umano non è appartenente all'umanità e la espelle dall'umanità. La democrazia è una cosa bellissima che permette anche a lei di dire delle coglionate indiretti. Questo è la democrazia e questo è il vero antidoto a Hitler, che tutti possiamo dire anche una cosa che davanti a una signora che fa lo storico di professione da tanti decenni, che conosco da tanti decenni, la costringe a ascoltare uno che non so che mestiere faccia fisso lo tiene giustamente nascosto. Però ha trovato ospitalità in Italia, viene dal Marocco, non precisamente il faro della nostra civiltà, anche se un paese che tutti guardiamo con simpatia non ci venga a far lezioni. Andiamo! Andiamo! Allora, via! E io ho preso qualcuno! Ma che è minchia sopra la terra! Che è il Mustafà?